Siamo in collegamento con Radio Maria, lei è in diretta adesso, sono Don Giacomo, stiamo facendo una preghiera collettiva per, diciamo così, disanare un po' la situazione che viviamo adesso in Italia, per il lavoro, per la famiglia, lei vuole partecipare, deve rispondere con un prega per noi, no, Santa Agnese, prega per noi, San Luca, prega per noi, Santa Giovanna, prega per noi, San Martino, prega per noi, Martino, prega per noi, Martino, come si chiama lei? Martino, come si chiama lei? Martino, Luca Solerci? Martino, come si chiama lei? Martino, come si chiama lei? Martino, come si chiama lei?